Cambia il nome ma il protettore, parola di presidente, resta sempre lo stesso. Dovrà comunque essere Giovanni Paolo II a spendere una buona parola per la Virtus Francavilla Calcio che ha debuttato ufficialmente nella nuova Redo Arena nel fortunato match di Coppa Italia contro il Taranto. Il cambio di nome è destinato a far discutere ma l'operazione di naming rights, oltre che diffusa, è assolutamente legittima. Abbiamo preso lo stadio per 15 anni in gestione e quindi abbiamo iniziato una serie di lavori con la realizzazione della nuova curva poi realizzeremo la nuova tribuna centrale con la copertura e con gli skybox anche per voi giornalisti e poi faremo la nuova sede anche qui dentro lo stadio, quindi tutta una serie di lavori e quindi in questo progetto rientra anche lo sfruttamento commerciale dello stadio da parte della società e da qui è nata l'idea di dare anche il nome dello stadio ad un'azienda che è l'azienda tra l'altro che mi onoro di rappresentare la nuova Redo e poi in futuro se ci saranno altre aziende disposte ad acquisire questo titolo chiaramente lo valuteremo. Se è quindi legittimo che magari chiami lo stadio che gestisce come vuole, o meglio come da accordi pubblicitari ufficialmente l'intitolazione potrebbe restare quella di sempre a Francavilla, ricorda il sindaco Antonio Lodenuzzo abbiamo sottoscritto una convenzione con la società che garantisce alla Virtus la gestione economica dell'impianto lo stadio resta intitolato a Giovanni Paolo II, l'intitolazione ufficiale non cambierà ma la società può concludere un accordo commerciale che riguardi il nome della struttura in un'ottica di marketing che, ripete il primo cittadino, è piuttosto diffusa.